Numeri da record nell'ultima edizione di Agri Levante, la rassegna delle macchine e delle tecnologie meccaniche svoltasi a Bari nel quartiere fieristico dal 12 al 15 ottobre. 60.000 visitatori, 3.000 espositori esteri, oltre 300 espositori per 6 filiere produttive negli oltre 50.000 metri quadri di superficie espositiva. Quest'anno abbiamo una fiera che inizia con dei record, record di espositori che abbiamo oltre 300 espositori, record di superficie che siamo oltre 55.000 metri quadrati. L'agricoltura del Mediterraneo è in crescita, è uno dei temi principali e uno dei temi che interessano di più i produttori di macchine agricole italiane, ma anche gli utilizzatori. Fra le iniziative programmate il convegno sulle prospettive economiche dell'Africa subsahariana, un momento di riflessione a partire da un'indagine di nomisma sui modelli di agricoltura e di meccanizzazione più adatti per i paesi della regione e sui programmi di sviluppo per rilanciare il sistema della cooperazione e del trasferimento tecnologico. All'interno dei piani di sviluppo rurale del 2014-2020 ci sono delle opportunità che sono collegate all'innovazione, l'innovazione che deve essere promossa da cosiddetti gruppi operativi dei PEI, del Partenariato Europeo di Innovazione. È uno slogan molto lungo ma sostanzialmente vuole dire una cosa molto semplice, partenariati, associazioni di imprese agricole e enti di ricerca che si mettono insieme per risolvere problemi concreti dell'agricoltura e dell'agricoltore per produrre innovazione. L'innovazione che è la benzina del nostro sistema, cioè il sine qua non, la condizione necessaria per poter andare avanti e poter stare sui mercati. Noi come Puglia stiamo portando avanti questo progetto che ha già visto oltre 200 domande e lo stiamo facendo con una peculiarità, cioè con un approccio che mette l'agricoltore al centro, non soltanto come utente, cioè come colui che userà l'innovazione, ma addirittura come proprietario. Spazio al programma di sviluppo rurale della regione Puglia nel confronto tra attori economici e funzionari regionali sull'attuazione dei partenariati europei per l'innovazione, offerto dal convegno dedicato al ruolo dell'innovazione nello sviluppo delle filiere di eccellenza pugliesi.